Buongiorno a tutti, un doveroso ringraziamento a chi ha voluto organizzare queste giornate così ricche, così partecipate e che ha concesso a questo intervento di essere presentato qui. Io mi scuso subito inizialmente perché dovrò introdurre almeno uno di questi personaggi che con Rubens si confronta nell'ambiente genovese e quindi in qualche modo spenderò qualche parola per contestualizzare all'interno del proprio panorama culturale la figura di Giovan Vincenzo Imperiale. Il 21 giugno del 1648 muore a Genova Giovanni Vincenzo e che qui vediamo in un ritratto probabilmente postumo con tutta la sua famiglia sullo sfondo della grande villa di San Pierdarena. E segna così l'inizio abbastanza precoce della dispersione di una delle più grandi multiformi collezioni che la Repubblica avesse ospitato sino a quel momento. Molto è stato studiato riguardo a Giovanni Vincenzo letterato e anche riguardo a Giovanni Vincenzo come uomo politico. Del resto è stata anche abbastanza ricostruita con successo la sua parabola di ricercato committente di dipinti. Ma la sua ricca e variegata biblioteca, sino ad oggi, è stata solo marginalmente presa in considerazione dagli studi e abbiamo appena cominciato a grattare la superficie di quanto questi volumi da lui conservati nel suo palazzo e che componevano la raccolta libraria riflettessero di fatto stimoli e tematiche che stavano alla base dell'azione culturale dell'imperiale. I libri, infatti, rappresentarono per Giovanni Vincenzo ben più che semplici status symbol aristocratici oppure anche di più di quanto potevano essere oggetti d'uso della sua professione di letterato e invece costituirono una parte integrante di una politica artistica e culturale tanto quanto i magnifici dipinti e le antiche statue che popolavano il cinquecentesco palazzo sito in piazza Campetto a Genova e la villa di San Pierdarena, entrambi edifici voluti dal nonno Vincenzo nell'ultimo quarto del Cinquecento. Le tre tipologie di oggetti, i libri dipinti e le statue, vengono infatti nominati in perfetta armonia nella lapide programmatica che l'imperiale aveva fatto apporre nel loggiato del palazzo nel 1629 al momento di quella che lui definisce la conclusione dei lavori iniziati dal nonno nel 1560. In realtà il palazzo era già finito da tempo e molto probabilmente Giovanni Vincenzo si riferisce a una conclusione parziale, cioè quello che è, questa è un'ipotesi ovviamente, l'allestimento definitivo della grande libreria in questo spazio, cioè forse nella sala dedicata alla giornalità liberata che viene affrescata da Bernardo Castello proprio attorno al 1617, non a caso l'anno in cui si ristampa la Gerusalemme liberata con gli argomenti di Giovanni Vincenzo pubblicati la prima volta nel 1604 di cui poi parleremo ancora, e l'anno dell'elezione al dogato di suo padre Gian Giacomo. E contemporaneamente la definitiva sistemazione delle collezioni all'interno del palazzo che di qui in avanti subiranno poche variazioni dovute agli impegni politici e sociali di Giovanni Vincenzo che non gli consentiranno più di occuparsi così diffusamente del contesto culturale. Nell'epigrafe, da umanista colto qual è, Giovanni Vincenzo cita sapientemente il testo che con tutta probabilità lo ha guidato nella composizione e nella disposizione delle sue raccolte. Quel picturis statuis libris decoratos, riferito agli spazi dedicati all'ozio produttivo, cioè all'ozio negozioso, deriva infatti puntualmente dal Bibliotecis Syntagma di Giusto Lipsio, pubblicato ad Anvers nel 1602 e che l'imperiale conservava, come vedremo, nella propria biblioteca. Per Lipsio, infatti, le imagines e le statue doctorum andavano disposte una cum libris nello spazio fisico, ma anche sottendente l'arco della cultura del proprietario, della biblioteca. L'idea della necessaria coabitazione dei volumi con le immagini, scolpite e dipinte, circolava nell'ambiente umanistico italiano quantomeno dai tempi di Pietro Bembo, senza neanche poi voler rievocare questioni di classica memoria che ovviamente conosciamo abbastanza tutti. Ma la sua teorizzazione scritta dovette attendere, dopo il livello lipsiano, dove si leggono questi accenni, i programmatici testi di Gabriel Nodet, 1627, che si occupa della mirabolante impresa relativa alla biblioteca di Mazzarino, e Claudius Clement, 1635, che prese invece a modello quella di Filippo II all'Escorial. Risulta di un certo interesse constatare come Giovanni Vincenzi Imperiale mettesse in pratica i più aggiornati concetti in fatto di utilizzo dello spazio della biblioteca in un momento assolutamente contemporaneo alla pubblicazione dei suddetti volumi, arrivando a dichiararne gli intenti sui muri di casa propria nel 1629, quindi a cavallo di queste due date di pubblicazione. Una consapevolezza del proprio ruolo nel panorama culturale europeo che si è fino ad oggi scarsamente segnalata per gli aristocratici genovesi e, come ulteriore passo di analisi, l'indicazione chiara di uno sviluppo maturo del concetto sincretico dello spazio della biblioteca come luogo di fusione tra le immagini e le parole contenute nei libri, dove appunto la guida alle virtù espresse dai letterati viene efficacemente assunta dall'immagine che la narra fedelmente grazie all'estro del pittore e dello scultore. I libri dunque assumevano per Giovanni Vincenzo dignità di vere e proprie opere d'arte in un rimando continuo tra la poetica della parola e quella dell'immagine. E questa consapevolezza gli derivò probabilmente anche da un lascito culturale del nonno Vincenzo, che lui non conobbe mai, ma che aveva improntato tutta la parte artistica della famiglia, al quale infatti si deve senza dubbio la costituzione del primo nucleo originario della biblioteca e i cui volumi furono già la fonte primaria di ispirazione per i temi tratti dalla storia greca e in particolare dalle vite di Plutarco, che anche esse erano conservate in più copie, in più lingue, anche questo è significativo, all'interno della biblioteca imperiale, alla base della fresco commissionata a Luca Cambiaso da Vincenzo imperiale per il piano nobile del Palazzo di Campetto. Tuttavia, Giovanni Vincenzo non si limitò a ereditare passivamente dai suoi predecessori la passione per l'antico, la raffinata competenza libraria, la cultura artistica, ma seppe farsi coinvolgere attivamente dalle correnti più vivaci l'aggiornamento letterario artistico europeo dell'imperiale infatti, nato nel 1582 a San Pierdarena da Gian Giacomo, figlio del colto e ricco Vincenzo, non abbiamo alcuna notizia certa per quanto riguarda la formazione culturale. Ciò che invece conosciamo che permette di ricostruire il suo percorso formativo, seppur per sommi capi e alle volte dovendo cedere a formulare qualche ipotesi, sono le occasioni di committenza e gli importanti incontri con luoghi e personalità significative, vissuti sia nei numerosi viaggi intrapresi sin dalla giovane età e ponendoci come limite nel 1622, quando muore il padre, il quarantesimo compleanno di Giovanni Vincenzo e lui acquista definitivamente responsabilità pubbliche e private che lo costringono ad abbandonare questi interessi più strettamente culturali. Anton Giulio Barrili, un erudito etnocentesco genovese che ha la fortuna di visionare gli archivi della famiglia ancora intatti, oggi purtroppo sono perduti, e di trascrivere questi viaggi e questi diari annotati personalmente da Giovanni Vincenzo, indica chiaramente, anche confermato da Raffaele Soprani, che fu sempre dedito, Giovanni Vincenzo, allo studio delle umane lettere, sin dalla più giovane età. Ed è del tutto credibile che il padre Gian Giacomo, il vero creatore della ricchezza economica, finanziaria e dell'imperiale, abbia voluto affidarla a un precettore per giungere a delegare al giovane figlio, del quale forse intuì l'inclinazione così fortemente legata all'ambiente letterario, le questioni culturali relative al patrimonio di famiglia. Questo è comprovato in maniera inequivocabile dalle relazioni già forti e solidi instaurate da un ventenne Giovanni Vincenzo con personalità come Gabriello Chiebrera, Ansaldo Cebangi, Lo Grillo, Claudio Achillini, Giovanni Battista Marino, è documentata la corrispondenza del 1604, ma il Marino lo cita esplicitamente sia nelle Dicerie Sacre del XIV, citandone le opere, sia nella Done, dove allegorizza Giovanni Vincenzo come la persona che lo introduce a questo mondo della letteratura, nel 1623, e ad esempio poi anche il Casoni, cioè una sorta di gota letteraria d'Italia in cui Giovanni Vincenzo ha vent'anni e è già perfettamente inserito. Allo stesso modo, precoci e fruttuosi sviluppano i suoi contatti con gli artisti. Bernardo Castello, lo vedremo, Domenico Fiasella, detto il Sarzana, Giovanni Battista Paggi, Palma al Vecchio, che visita due volte a Venezia nel suo studio, nel 12 e nel 22, Rubens, frequentato probabilmente dal 1604, come proveremo a vedere, Iprocaccini, Van Dyck, suo ospite certamente nel 26, e Guidoreni, del quale visita lo studio sempre nel viaggio del 1622. Si potrebbe definire questo primo momento formativo che va dalla nascita, nel 1582 al 1602, come quello della ricezione degli stimoli interni, cioè quelli derivanti sia dall'ambiente familiare, che secondo Alizieri Barrilli, appunto, aveva fama di eccezionale livello culturale, sia, ed è anche giusto specificarlo, perché non bisogna considerare Giovanni Vincenzo un caso isolato, ma forse un caso studio che prova a definire una situazione genovese ancora poco chiara, dalla comunitas studiorum genovese, appunto, il cui reale livello di aggiornamento è adesso oggetto di studio e sta dando alcuni risultati interessanti. In particolare, sotto il profilo letterario, è l'Accademia degli Addormentati a fungere da collettore e da luogo anche virtuale di incontro tra letterati, aristocratici e anche artisti. E questo avviene in particolare dopo lo sdoganamento della professione del pittore dalle corporazioni artigiane avvenuto grazie alla disputa sulla nobiltà della pittura portata avanti da Giovanni Battista Paggi nel 1599. Non bisogna poi dimenticare che la Superba andava consolidando nella seconda metà del Cinquecento un aggiornamento di tipo letterario e di collezionismo librario di non poco conto. A titolo di esempio valga qui citare soltanto a passant la biblioteca selecta di Giovanni Battista Grimaldi, scelta secondo i consigli dell'amico Claudio Tolomei, gli oltre 2500 volumi di Giulio Pallavicino inventariati e venduti ad Agostino Franzone nel 1635, la cultura umanistica, le relazioni internazionali e il ruolo di fondatore proprio dell'Accademia degli Addormentati di Ambrogio di Negro con importanti relazioni con le Fiandre, il proposito di costituire una biblioteca pubblica a partire dai propri volumi poi non realizzato ma in date clamorose nel 1606 da parte di Andrea Spinola e le biblioteche non trascurabili di collezionisti come Gerolamo Balbi e di letterati come Anton Giulio Brinio Le Sale spostando un po' l'asticella verso la metà del 600. Il primo momento significativo però Giovanni Vincenzo lo vive probabilmente tra le mura di quella che considererà sempre la sua vera casa e cioè la villa di San Pier d'Arena. La documentazione d'archivio sino ad oggi ritrovata rivela l'impegno economico di Gian Giacomo Imperiale nella prosecuzione dei lavori soprattutto per quanto riguarda l'allestimento del grande giardino mentre nessuna menzione ne viene fatta in merito alla committenza artistica a Bernardo Castello per le pitture e a Marcello Sparzo per gli stucchi che ordnano il prezioso spazio della loggia da sempre dei ritenuti raffigurazioni di episodi legati alla Gerusalemme di Tasso. Grazie ad una lettera del 1602 scritta al pittore da Gabriello Chiabrera che si dice contento che ben procedano i lavori in San Pierdarena si può fissare con relativa certezza l'impresa decorativa ai mesi limitrofi a questa data prima dunque del viaggio a Roma del castello dal 3 al 6 il primo e prima e questo ancora più importante della ristampa della Gerusalemme liberata del 1604 che avviene a Genova che avrebbe reso assai frequente la ripresa delle tematiche derivate dal poema del Tasso a Genova e non solo e dove il giovanissimo Giovan Vincenzo riceve la definitiva celebrazione internazionale scrivendone preferito a Chiabrera e a Cebà appunto appena 22enne gli argomenti introduttivi si è potuto recentemente riconoscere nelle vicende descritte dal pennello di Bernardo Castello il trionfo di Marcella Siracusa narrato con chirurgica precisione secondo le vite di Plutarco spostando così la fresco imperiale dalle ovvie riprese della tematica tassiana all'ambito ancora in fase di studio delle riprese di episodi derivanti da Plutarco nel 5-600 genovese delle quali tra le altre cose proprio la fresco del cambiaso voluto da Vincenzo per il palazzo di Campetto dal nonno ovviamente è uno degli esempi più eminenti un riconoscimento che grava queste immagini di un ben più preciso carico semantico andando di fatto a configurarle come un esplicito manifesto di una programmatica culturale e non come il semplice esito di un generico gusto antiquario che accettasse in maniera piuttosto apatica tutto ciò che è considerabile come antico come classico se pensiamo infatti che l'evento narrato da Plutarco per quarto riguardo al trionfo di Marcello fa parte delle motivazioni che spinsero Orazio a coniare il famoso Grecia capta ferum victorem cepit artes intulit agresti latium narrando come le sculture greche portate da Siracusa a Roma divennero l'innesco per far detonare l'amore per l'arte greca nei contadini soldato della Repubblica e che proprio sotto quella volta doveva prendere posto in parte ancora così perché sono lì conservati ancora alcuni busti parte della collezione vi faccio vedere l'unica foto che abbiamo del palazzo di Campetto però le opere erano quelle parte della collezione straordinaria di marmi classici o presunti tali degli imperiali ci si rende immediatamente conto che l'imperiale ideatore del ciclo decorativo sta evidenziando il ruolo suo e della famiglia come formatori aggiornatori del gusto e della passione antiquaria dell'aristocrazia genovese un messaggio della potenza inedita e forse inattesa stante il fatto che fino a pochi anni fa insomma gli aristocratici genovesi erano considerati più commercianti di opere d'arte che reali propugnatori di un'idea culturale delle opere nei confronti anche diciamo educativo e didattico nei confronti della loro società una regia questa in cui non appare improbabile evidenziare il fervido ingegno artistico del giovane Giovanni Vincenzo e basti pensare alla volontà forse di replicare i fasti della fresco che ho già più volte citato con le virtù di Cimone Ateniese secondo Plutarco dipinte dal cambiaso e attorniate dagli stucchi del bergamasco realizzate nel palazzo di città nel 1561 per volere del nonno Vincenzo o forse una volontà ancora più forte visti le sue passioni letterarie stabilita grazie alla relazione strettissima tra il poeta e la villa descritta dal giardino agli apparati decorativi con dovizia di particolari nel volume dello Stato Rustico pubblicato nel 1607 e che probabilmente nel 1602 era in fase di gestazione ma se questi sono gli esordi dell'operato culturale dell'imperiale e che ci servono appunto a contestualizzarne la portata dovuti probabilmente anche al supposto tutorato voluto dal padre e all'ambiente genovese che gli frequentò sin da adolescente negli anni immediatamente successivi si intessono per Giovanni Vincenzo incontri che porteranno alla solida strutturazione di un pensiero culturale innovativo e aggiornato a livello europeo e che dunque derivano da contatti esterni compresi quelli vissuti nei primi viaggi da lui ricordati ne avrà certamente fatti altri ma non ci sono rimaste le testimonianze a partire dal 1609 viaggi è giusto ricordarlo che enfatizzano i rapporti amichevoli e di conoscenza reciproca con la corte mantovana già appunto nel 9 senza contare che molti anni più tardi alla morte di Giovanni Vincenzo sarà proprio il duca Carlo II Gonzaga Never a muoversi per primo e sul suggerimento di Gio Benedetto e Salvatore Castiglione per l'acquisto della quadreria imperiale che finirà invece tra le mani di Francesco Maria Balbi prima e di Cristina di Svezia poi è mia convinzione sebbene non vi sia una decisiva evidenza documentaria che le parole scelte da Giovanni Pietro Bellori nell'indicare i due grandi dipinti di Rubens che campeggiavano sulle pareti di Campetto e dei quali le copie già inventariate nell'inventario del 48 pendevano dai muri della villa di San Pierdarena non siano state scelte a caso lo storiografo dice esplicitamente che il pittore di Sigen dipinse vari quadri e ritratti per signori genovesi Ercole Iole e Adone Morto in braccio a Venere al signor Giovanni Vincenzo Imperiale stabilendo una relazione di committenza diretta o alla peggio un diretto acquisto delle opere che dal momento che i due dipinti sono legati unanimemente dalla critica agli anni 1603 e 1604 vede il giovane imperiale incontrare per primo rispetto all'ambiente genovese il quasi coetaneo pittore è pur vero come abbiamo discusso insieme con un caro amico che si occupa di Rubens che se questo incontro precoce fosse avvenuto sarebbe difficile spiegare come mai il giovane rampante imperiale non avesse chiesto al fiammingo di eseguirgli un ritratto come fecero la maggior parte degli aristocratici genovesi compreso ad esempio quel Giulio Pallavicino per nulla versato nel collezionismo artistico ma come si è visto proprietario di una ricchissima biblioteca tuttavia va anche notato che il primo ritratto noto di Giovanni Vincenzo in termini cronologici è quello realizzato da Anton Van Dyck nel 1626 quando l'imperiale aveva ormai dal 1623 un consolidato ruolo politico era stato capitano della Valpolce era senatore magistrato delle Galee e così Van Dyck lo effigia e forse fatto più significativo si trovava ormai lontano dall'ingombrante ombra del padre quel serenissimo Gian Giacomo imperiale che fino al 1619 aveva ricoperto la carica dogale la scelta di soggetti d'ambito come vedremo filosofico al contrario insomma nei dipinti di Rubens andrebbe nella direzione di un animo totalmente dedicato in quel torno d'anni all'accrescimento delle proprie competenze letterarie e culturali siamo prima degli argomenti appunto della liberata del quattro e forse quando sta coordinando questo ciclo decorativo a San Pier d'Arena piuttosto che all'affermazione di un sé politico fattore che passava spesso attraverso la celebrazione per il tramite del ritratto basti pensare se ve ne fosse bisogno ad esempio al clamoroso caso di Giovan Carlo Doria ma se si trattasse qui solo di riconoscere il gusto avveduto di Giovan Vincenzo nel comprendere il genio del pennello di Rubens in anticipo sull'arrivo della circoncisione per la chiesa del Gesù nel 1605 forse la cosa non sarebbe di così tanto momento invece è interessante indagare gli esiti più profondi di questo meeting diciamo col pittore fiammingo da collocarsi forse sulla traiettoria di quel ritorno dell'ambasceria spagnola databile ai primi mesi del 1604 che assume le dimensioni più di un mutuo scambio intellettuale che di una mera richiesta prezzolata di opere d'arti per quanto di straordinaria qualità gli anni del soggiorno italiano sono infatti per Rubens anche quelli del più acceso confronto con le opere del maestro del fratello Filippo il filosofo fiammingo giusto Lipsio le idee Lipsiane legate al recupero della morale stoica e alle opere di Seneca erano nei primi anni del 1600 uno dei trend topic dell'intero panorama culturale europeo un fattore che si accentuerà con la morte del filosofo nel 1606 e che per Rubens stesso culminerà alla morte precoce del fratello nella grande tavola oggi a Palazzo Pitti in cui i tre insieme a Voverius sono ritratti assieme sotto leggi da confortante del Seneca Farnese un'immagine dell'antico potentemente pervasiva di cui il pittore si era fatto realizzare una copia da portare con sé in anversa e della quale aveva realizzato una versione grafica che farà da modello prima a Lucas Worsterman per le famose serie relative alle incisioni dei filosofi classici e in un momento successivo persino al virtuoso scalpello di Giuliano Finelli a testimonio se servisse dell'onda lunga dei modelli rubensiani derivanti da prototipi classici non è un caso che il giovane imperiale chieda o acquisti dal pittore se non desideriamo fidarci totalmente della committenza indicata dal Bellori due dipinti di eminente tema stoico o per rimanere più sul generico relativi all'importanza di temperare le passioni Ercole per la passione amorosa che lo lega ad Onfale perde la virilità la forza e i suoi attributi Adone a causa dell'irrefrenabile passione per la caccia che neppure Venere riesce a spegnere perde addirittura la vita il vero frutto di questa relazione giovanile con Rubens al di là di questi due magnifici dipinti emerge però in maniera maggiormente significativa da un documento ben più tardo e cioè l'inventario della grande biblioteca imperiale voluto da Giovanni Vincenzo un anno prima della morte nel 1647 questo è un dettaglio interessante perché molto spesso gli inventari non sono fatti redigere quando insomma finisce la vita di un committente dal committente stesso ma sono eseguiti da persone che magari non si intendono neanche della materia nel caso di Giovanni Vincenzo sappiamo proprio grazie alla data che è stata la volontà del proprietario a tramandarci l'inventario della biblioteca temeva forse quello che poi accadde cioè che il Francesco Maria II imperiale suo figlio avrebbe disperso senza tanto criterio le sue proprietà in tempi piuttosto rapidi e di fatto poi così avvenne qui in mezzo agli oltre 1100 volumi compare ed è un caso unico a Genova tra le raccolte librarie oggi note non è detto che poi non esca qualcosa di nuovo l'intera collezione e uso il termine collezione non a caso perché appunto sono compresi tutti i titoli delle opere di Lipsio compresa molto probabilmente anche l'opera Omnia uscita a posto Madame Vers nel 1614 con un corpus sostanzioso di illustrazioni realizzate proprio da Rubens questo gruppo di 19 opere del filosofo Fiammingo tra le quali compare anche quel bibliotecico sintagma di cui si è già fatto cenno dimostra un interesse ben vivo per le tematiche ellipsiane fatto confermato eloquentemente anche dalla particolare disposizione di questi testi all'interno della biblioteca dell'imperiale grazie alla redazione topografica del documento possiamo infatti constatare che le opere del Lipsio si trovassero praticamente tutte nella medesima cassa in fondo alla biblioteca e fossero state acquisite nello stesso formato in mezzo ad esclusione di tre volumi in ottavo e di un libro di grande formato che essendo indicato come Justus Lipsius in pagina potrebbe indicare molto probabilmente anche perché di più grandi dimensioni quindi i libri illustrati avevano sempre una certa pregnanza molto spesso la citata opera omnia del filosofo le tematiche neostoiche così come nel caso dei dipinti di Rubens fanno però significativamente parte anche della raccolta artistica di Giovanni Vincenzo e guarda caso sono spesso il soggetto delle opere di artisti a lui contemporanei e non come certamente da supporre ad esempio per le opere di Cambiaso che fanno parte dell'inventario non del nucleo acquisito dal nonno e dal padre ritroviamo così un catone che si squarcia le viscere di Luciano Borzone un amore che benda Ercole con un fale di Bernardo Strozzi così come dello Strozzi sono anche i tre filosofi e le tre parche queste due foto non sono relative ai dipinti di imperiale ma soggetti di Strozzi relativi a questi due temi che forse echeggiavano ad esempio il tema risolto ad affresco dal cambiaso nel palazzo di Campetto Procaccini è presente poi con un tizio mentre a un fiamengo che parrebbe il Van Dyck dal momento che col medesimo autore vengono segnalati i due ritratti dell'imperiale oggi a Bruxelles e a Washington appartengono una pallada che difende le virtù dai vizi e uno scorticamento di Marsia non che alle precedenti fasi di acquisizione di opere non appartenessero temi di questo tenore ma colpisce non poco alla luce di queste riflessioni riscontrare come opere certamente derivanti degli acquisti di Giovanni Vincenzo seguono significativamente sia le tematiche dei dipinti rubensiani sia i concetti di continenza neostoica e di temperamento delle passioni quando non esplicitamente di traccotanza punita dei volumi di Lipsio per Giovanni Vincenzo dunque l'impatto con Rubens fu forse più latamente culturale che semplicemente artistico tanto da condizionare soprattutto il futuro della biblioteca insieme a quello forse più ovvio della ricca quarrieria Lipsio inoltre rimase idealmente sottotraccia come si è visto nelle scelte collezionistiche e dispositive dell'imperiale dichiarate pubblicamente nel 1629 nella lapide celebrativa del palazzo di Campetto d'altra parte dal momento che letterate aristocratici e collezionisti nelle vesti di committenti suggerivano agli artisti da essi patrocinati tematiche spunti e riflessioni utili per la realizzazione di opere artistiche nulla vieta di pensare che il procedimento potesse in parte invertirsi e che fossero ovviamente in alcuni casi eloquenti come quello di Rubens dove il pittore può reggere questo tipo di ipotesi gli artisti stessi a farsi portatori di stimoli e spinte culturali che significarono per gli ambienti e per coloro con cui essi entrarono in contatto rivoluzioni più profonde e di ben più lungo periodo grazie grazie grazie